Inizio partita Iniziamo una nuova partita E vediamo che adesso finalmente il gioco vanta i sottotitoli in italiano Non dovevo farlo, non dovevo venire qui Avevo bisogno di vedere con i miei occhi Siamo in Siberia E si sono dimenticati di me Mi hanno lasciato qui Ho bisogno di uscire, devo trovare un modo e posso iniziare da qui Ci stiamo avventurando in Siberia per cercare una spedizione andata persa Una spedizione nel senso di uomini Che abbia a che fare con qualche tipo di corriere Allora, la prima cosa che noto è che abbiamo le gambe Nella demo non c'era Cosa che dà un pochino più di realismo al gioco Il mouse ci guardiamo intorno E abbiamo il generatore Ha questi menu un po' particolari Non è ancora tutto tradotto Nel senso che adesso il gioco non è ancora uscito Quindi non so dirvi il prezzo Però col tasto E Accediamo Col tasto TAB scusate Accediamo al nostro inventario Con la nostra arma Al piede di porco L'ascia Portatile, portatile Penso siano le torce E poi tutto l'equipaggiamento Per il corpo IA Batteria Insomma avremo Dell'equipaggiamento con cui interagire Se vi ricordate Avevamo fatto un viaggio Perché qua in pratica si può viaggiare da una zona all'altra Usando questi Diciamo Sorte di teletrasporti Gli obiettivi però non sono in In italiano Almeno Qui gain access to shelter Ho bisogno di Guadagnare accesso a questa Questa casa Questo rifugio Eravamo andati Avevamo esplorato un pochino C'erano successe cose Cose strane Ma Vabbè Come prima cosa Dobbiamo collegare Il Vedete qua Il carico a batterie Ma il carico a batterie Non ce l'abbiamo Quindi Adesso Appena ci allontaniamo Ce lo stacca Esploriamo un pochino Serve della corrente Turn on generator Ok il generatore è qua Credo sia questo Vecchio generatore Accendi Col tasto E Ed serve del carburante Il carburante ce l'abbiamo qui E vediamo dove versarlo Allora Muoviamo la Allora Aggiungi carburante Ok vedete che Con il tastino Del mouse La rotella Andiamo a modificare L'azione che facciamo Infatti Stiamo versando Ok Ora possiamo accenderlo Ok abbiamo acceso Mi piace molto Questa cosa Che ci da il caricamento Mentre facciamo un'azione Che lascia comunque Quel minimo spazio Alla fantasia Qua possiamo già iniziare A guardare dentro Eh c'è qualcuno Mi ha sentito qualcosa Ve lo ricorderete di sicuro Se Se vedete questo video Perché avevo fatto una live Poi se vi va Potete Confrontarlo So che c'è qualcuno Questa Ascolta incontramo C'è le coordinate Che sto per mandarti So che vuoi uscire Lo vogliono tutti Potrei organizzare Una cosa per te Ma discuteremo Faccia a faccia Le mie condizioni Fai attenzione alle luci Pungono e fanno male Ok Stiamo ricevendo Una trasmissione Va bene Trasferimento Dati in corso Tengo premuto E dovrebbe avermi caricato Le coordinate New travel coordinates received Va bene Qua abbiamo lo zaino Lo Mettiamo subito Come deposito In modo da aumentare Il nostro Inventario Perché scusate Se lo tolgo Vedete che diminuisce Quindi Ok interessante Altro da ispezionare Non c'è C'era qualcosa qui Un letto Perché possiamo far passare La giornata Qua abbiamo una stufa Allora Cancello di metallo Inserisci Tessera magnetica Mi serve una tessera magnetica Dobbiamo accedere qua Ok Niente Diamo un'occhiata qua intorno E vediamo se Se lo troviamo Qua c'è una stufetta Viene freddo solo A guardarlo Anche se in realtà Non trasmette Il freddo Che trasmette The long dark Telefono rosso C'è uno schermino Con control Ci possiamo abbassare Status locked Ok Qua non c'è altro Quindi Diamo un'occhiata intorno Vediamo cosa c'è Qua c'è Appunto Questa è una slitta In pratica Una moto slitta Insomma Di Una sorta di mezzo Di trasporto Diamo un'occhiata intorno Vediamo se troviamo qualcosa Qua si vede la stanza Che Al cui non riusciamo ad accedere Non abbiamo ancora una torcia Quindi non possiamo Entrare Qua abbiamo Un cancello Che non possiamo superare Classici Ostacoli Un molo Su un lago Che non è ghiacciato Però Non possiamo saltarci Sono ottime Queste Questi blocchi Qua c'era Mi ricordo Nella demo Che c'era Una Una cantina lì Ma non c'è più L'hanno L'hanno tolta Quindi vediamo cosa riusciamo a fare Così Qua non ce ne possiamo andare Niente L'aria E ce l'ho scritta qua Però Andiamo a vedere Se nel viaggio rapido C'è stata aggiunta La Ok Il muro Possiamo andare al muro Andiamo al muro Travelling Ancora mezzo tradotto Insomma Però Già Comunque notevole Il fatto che Ok Le luci fanno male Dicono Ma che spettacolo C'è un muro enorme qua Cos'è Game of Thrones Vi faccio vedere Le impostazioni Video Comunque siamo tutto a epico Ho tolto solo il Mettiamo Epiche anche le ombre Ho tolto solo il motion blur I comandi Si può giocare anche col pad Io ho anche il pad collegato Si muove la freccettina del mouse col pad Le lingue sono diverse E niente Vedete Col pad si gioca Si può giocare Col tasto A Si salta Insomma È supportato anche il pad Per chi Se lo stesse domandando Ok Diamo un'occhiata qua Cosa Contro per accoracciarsi Ok Ci sono delle luci Che ci stanno guardando Dobbiamo evitarle Do-do-do-do-do-do-do-do Aia Ok Ci hanno ucciso Carico la partita Quick save Non mi ricordo se eravamo morti Comunque in pratica Dobbiamo andare qui A fare non so cosa Ci ha detto di incontrarci qui Di fare attenzione Alle luci Quindi le luci Adesso ci beccano Un colpo siamo morti Quindi bisogna muoversi Abbastanza furtivamente Avevamo visto Nella live Delle cose strane Tipo un rituale Mi pare O comunque un Un soggetto Abbastanza inquietante A girarsi Per Per il mondo Allora Quella luce lì Fa quel giro lì E poi se ne va Allora Facciamo una corsetta Fino a qua Forse Ce la facciamo Ad arrivare qui Ok Si può passare di qua Andiamo Non abbiamo una torcia Quindi Però Siamo arrivati qua Vediamo se c'è qualcosa Con cui possiamo interagire Eccolo Bene Mi hai trovato E sei ancora in vita Non sei inutile Come quelli che ho incontrato prima Quindi lascia che ti Premi Per i tuoi sforzi Una chiave magnetica Per la stanza della casa Ok Grazie Bella anche l'animazione Qui mi passa la testa Quindi vuoi uscire Ci sono alcuni modi Ma diciamo Che non saranno gratis Facciamo un accordo Sta succedendo qualcosa Nella foresta di Motley Conosci quel posto? Ricalca un po' Quello che era C'era Nobilight Come gioco Trasferimento dati in corso Ok Mi sta trasferendo Anche i dati della foresta Adesso dove potremmo viaggiare Ti aiuterò A identificare la fonte Ma ho bisogno di campioni Ah C'è qualcosa che si aggira Nella foresta Non dimenticare Per cui ho attento La traccia elettrica A casa tua Diventa Davvero buio Là fuori Ok Qua c'è una porta misteriosa Ma Vabbè Intanto ci congediamo Dal tipo qua Basta? Ok No Allora Nuovo obiettivo Vediamo vedere Gli obiettivi Distruggi la piaga Devo trovare Devo trovare il modo Di distruggere la piaga Spero Poi lo aggiorni Non esce tra due giorni Lo sto provando prima Ma Mi ha trovato Mi ha detto Il mio commerciante Mi ha detto Di trovare Degli oggetti Connessi A una cosa misteriosa Pericolosa Che si sta girando Nella foresta Di Motley Quando li trovo Devo mandargli Un campione E crafta Un Ok Andiamo nello shelter E craftiamo tutto Quando ho spento le luci Adesso Dobbiamo andarcene Ma ci saranno ancora No Le ha spenti Ci stava perculando Allora Ci stava proprio perculando Ci stava dicendo Vediamo se questo è in gamba Vediamo se riesce a muoversi Furtivamente fino da me Vabbè Inquietante anche sto tizio Sì Comunque Ricalca tantissimo Quella che è L'atmosfera Di Chernobylite Per quanto la storia Si è completamente diversa E gli sviluppatori Anche Va bene Carica batteria Lo useremo probabilmente Per caricarci la torcia Comunque Viaggiamo Vedete che abbiamo la foresta Ma non possiamo andare nella foresta Infatti ci dice Abbiamo bisogno della torcia Per andarci Credo Adesso facciamo la prova Adesso torniamo a casa Proviamo a viaggiare Vediamo se effettivamente Quest'icona È un requisito Per raggiungere quella zona Vedete che qua ci dice la torcia Per viaggiare Mi serve il modulo torcia Frontale equipaggiato Infatti Comunque Andiamo qui Usiamo la tessera E apriamo la porta Qua dovremmo sbloccare Il crafting Non mi ricordo Se c'era il piano di sopra Forse no Non era abilitato Comunque qua si può cercare Con il piede di porco Apriamo lo scafale Lo chiama scaffale Ma a me sembra un baule Non c'è dentro niente Lo troviamo il piede di porco Assolutamente No forse c'era il tetto Il piede di porco Voglio equipaggiarlo Che fa proprio slot a sé Il piede di porco Il piede di porco Premiare con la tua arma Usa Per attaccare Ok ok Infatti vedete che In basso a destra C'è il simbolo della batteria Vediamo Adesso riusciamo a smontare la radio Ok Abbiamo trovato metallo e viti Perfetto No mi ricordo che c'era la macchina Che ci chiedeva Qua abbiamo un'arma Che equipaggiamo immediately Stampante No ma voglio cercare prima Tutto quello che possiamo No non c'è niente Cabina di controllo Ok Fornello Cerco Controller generico Metallo Frullatore Elettromotore Cavi plastiche Sì ma no Praticamente C'è no bilite Lo rievoca comunque Stampante Ok Qua vedete che possiamo scomporre le risorse Polimeri Ok Quindi Mettiamo le risorse Ops L'ho buttato per terra Ne sa Vabbè Vabbè Comunque Doppio click Butto di là tutto Vedete che mi converte tutti i polimeri Polimero Compagnite elettronici Take all item Scomporre le risorse Ok Ok abbiamo preso tutto Una cosa un po' fantascientifica Ma va bene Stampante Allora Modulo torcia frontale Vedete che ci ne chiede un po' Quindi io le butto dentro qui Se le mettessi nel deposito No non me le da più Vabbè Possiamo produrci la torcia frontale E l'abbiamo prodotta E le equipaggiamo Il modulo testa Quindi a questo punto Io le risorse le lascio lì Usando questo Andiamo a equipaggiare Ad accendere Scusate La torcia In questo caso Recupero altre cose E le deposito Anzi le converto già Che Sai mai che Ok Che poi ci possa servire Per qualche altra ricetta Pieno di Di dettagli carini Misti Magari ad altri Che sono fatti meno bene Però Non male Stampante Apri Eh no Non abbiamo Non abbiamo altro Da poter Fare Non abbiamo munizioni Però forse Fucile Bolt action Infatti non abbiamo colpi Credo Infatti Non ci sono proiettili Vabbè Mettiamolo via Non mi pare Di averne visti altri Quindi Diamo un'occhiata Ancora sopra In modo un po' più Approfondito Magari se c'è qualcosa E adesso Proviamo a donare Anche nella foresta Uh c'è Un avviso urgente Tutto tradotto questo Meglio così Che Menù Chi se ne frega Il nostro Trattatore D'analisi Prima Ho ricevuto Ha Rilorato Quantità Significative Di spori Organiche Nell'aria Esterna I test Indicano Che le spori Anche se Arretativamente Inocue Potrebbero portare Una persona A avere un respiro A corto All'ulcinazione Infine Minimizzare Produttività Le perdite Di produttività Limitare Imanano I seguenti ordini Tutto personale Con accesso Altario superiore Come visitatori Devono indossare La maschera Antigas All'esterno Personali sotto Livello 0.3 Tenuto Prendere una compressa Di ritozin Ogni due ore Ok Chissà noi Di che livello Siamo Avete dubbi? Allora Prendo Il piede di porco Non posso Interagire Con Ambiente Sì Ma non Non mi rompe Niente Questa L'abbiamo Già ispezionata Va bene Andiamo Qui Non Credo Ci sia Altro Da Poter Demolire Delle Tazze Non c'è Interazione Ovviamente Parliamo sempre Comunque di un indie E andiamo a vedere La foresta Questo è quello Che avevamo fatto Alla fine Nella live Eravamo arrivati qua Qua c'era Se non mi ricordo male Un villaggetto Però vediamo Magari hanno cambiato Non so No no 5 5 5 5 5 Giusto È un bolt action Quindi un colpo alla volta Belle le animazioni delle armi Do atto Accendo la torcia Abbiamo un rotore Lo recuperiamo Abbiamo un'unità d'emergenza Scrap device No non c'è niente Qua c'è un sensore E qua Col piede di porco Recuperiamo Del metallo Bene Ci saranno anche qui Credo Elementi Sovrannaturali Cerchiamo Negli rifiuti Magari Polimero E metallo Ottimo Trasferimento dati Che succede? Luogo Ah ok Con M Apriamo la mappa Eh Sembra bella grande Sta mappa Però Sembra una zona Abbastanza sicura Questa Ma andando di là Nulla sarà più sicura Vediamo Questa è inquietante Magari troviamo anche una Dispositivo idraulico Recupero Ci sono anche i pesi Possiamo trasportare Fino a 81 kg Altre munizioni Un armadio Con una batteria Scusate che prendo Anche i proiettili Ok Questa è una stampante Possiamo stampare qua Un mega zaino Possiamo fare Il problema è che non ci siamo portati dietro Tutte le cose Che avevamo in base Quindi non possiamo Carica batteria Ah così ce lo colleghiamo a noi E ci carichiamo la batteria Ok perfetto Grazie Un dispositivo idraulico Niente Vediamo i cestini Diventa anche un po' Quando faccio queste cose Sui cestini Seven days to die Allora Di là Qua c'è un La natura indie Non viene tradita Appunto Da Quest'interattività Con l'ambiente Che è minima Però è un gioco Che punta comunque Sull'atmosfera Sul sovrannaturale Sul La sopravvivenza Insomma Con il reperimento Di munizioni Di batterie Di Elementi Utili Al crafting Intanto vediamo la mappa Qua si sta Dovremmo avere una tenda qua Quello che mi sento di dire Sul gioco Che non è assolutamente male Perché non è uno di quei giochi Che me è solo per appassionati Se vi piacciono Questo genere Di giochi Il gioco Secondo me Merita Perché comunque Vi piacerà Se cercate cose Nuove Avete già magari Spolpato Un Star Nobilight O giochi Di questo genere Un Long Dark Così Secondo me Potrebbe fare Al caso vostro Come titolo Blair Witch Mi viene in mente Anche perché calcoliamo Che qua nella foresta Hanno detto Che c'è qualcosa C'è un elemento C'è un Una cariatura Pericolosa Che si aggira Qui stiamo tornando indietro Quindi proviamo ad andare avanti Non credo ci sia il save C'è il quick save Che fa il gioco in automatico Quindi In caso di morte Dovremmo Intanto Vedete che mi sto congelando In basso a Sinistra Vedete il nostro livello Di congelamento E quindi È un po' Siamo un po' Da una merda Perché a breve Moriremo Quindi Dovemmo trovare Assolutamente Un rifugio È abbastanza Legnosetto Come Come cosa Fattoria abbandonata Ok dai Magari ci salviamo La pelle Se entriamo Magari ci passa il freddo No Par di balle Ci passa il freddo Stiamo congelando Cavoli Mi serve una stufetta Una stufetta Accesa Da qualche parte Un fuoco Qualcosa Di dentro Magari C'è una stampante Vediamo se possiamo collegare La batteria No Stiamo morendo Non Non sopravviveremo Ancora Molto È tutto Una sega Circolare Eh no Siamo praticamente Morti Di freddo Abbiamo messo La luce Ma La luce A breve La vedremo Davvero Infatti Vedete Che sta Scendendo La vita Adesso Tutto Tutto sulla sinistra C'è la barra Della vita Che sta scendendo E ci siamo anche Incastrati qua Non vedo niente Che ci possa scaldare Se non questa luce Ma Siamo morti Non ci ho fatto caso Subito Al Al freddo Ma in effetti Era un parametro Da tenere in considerazione Ripartiamo da qui Non c'è una Gran Reazione Diciamo Fisica Ai colpi Puoi ricaricare Grazie Puoi dargli anche un colpo Corpo a corpo Però Proviamo un po' Ok Lui Non si può lutare Ci ha ripristinato Il gelo Quindi Nella fattoria Abbandonata Possiamo esplorare Un attimo Senza il rischio Di morire Devo caricare Questa anomalia È un crocefisso Anomalo Questo campione Immagino Il militare Non ce l'abbiano fatta Ok Quindi Ma la batteria Possiamo metterla Da qualche parte No Cioè Non ci serve Unità d'emergenza Niente Ok Direi che abbiamo recuperato qualcosa Non so se effettivamente Abbiamo altro da fare No Dobbiamo continuare L'esplorazione E dovremmo anche tornare indietro Perché A breve Poi Positivo Idealico Ora Quanta roba Cosa possiamo Cosa possiamo craftare Recuperatore Converte i movimenti Il calore corporee In elettricità Ok Modulo Maschera antigas Anche questa Non sarebbe male Ci butto dentro Tutto quello che posso usare Per convertire È una cassa di progetti No Butta dentro tutto Che magari Anche le batterie Non c'è spazio Con questo oggetto Vabbè Scomporre le cose E possiamo fare il modulo Maschera antigas Ok Maschera antigas Ce la montiamo Senza la torcia Possiamo Il problema È che Adesso Non abbiamo più Cioè Per andare qua nella foresta Ci servirebbe La torcia Qua c'è Un caricabatteria Con un amplificatore Un condensatore E un furgoncino Che non possiamo Non possiamo farci niente Direi che La strada Andrebbe anche avanti Di là Però io Me ne tornerei indietro Giusto così Per concludere Questa prima spedizione Ci si sta sbloccando Sempre più Ricette È interessante Perché comunque L'atmosfera L'audio Sono veramente Veramente Fatti bene È un indie Si vede Ma Fatto bene Devo dire Che l'atmosfera La cura C'è una certa Legnosità Di fondo Ma Questo è sempre Comunque Proporzionale Secondo me A quanto Un gioco Sia Comunque Abbia un team Più o meno Ampio Qua abbiamo Una serie Di Ucine Un altro Ma non abbiamo Più colpi Mi sa No forse Si Il problema È che La rischiamo Grossa Perché Si Non ha Una grande Reazione Il tizio E soprattutto Non ci ha Ok Diamo un'occhiata Anche qua Perché La curiosità Mi Comunque È completamente Diverso Da quello Che avevamo Giocato Nella demo Mi sa Ho questa Vaga impressione Qua abbiamo Un generatore Una stampante Una stampante E basta Non c'è altro Una serie circolare Con dentro Dei componenti Tra l'altro Sono un pirla Perché ho lasciato Tutte le componenti Dentro la stampante Che ho Abbandonato Un attimo fa Pazienza Comunque Adesso torniamo Sulla strada E ce ne torniamo A casa Dove comunque Dovrebbe essere Possibile Dormire Anche perché Stiamo congelando Adesso Quindi Le tende militari Sulla mappa Dovrebbe essere Comunque Sempre indicato Il Il punto di viaggio Cioè La La slitta Credo Qua siccome abbiamo iniziato Di qua invece Ce ne andiamo Credo sì È di là Giusto Giusto Stiamo congelando Quindi Andiamo Non vedo il simbolino Di fuga Però è qua Viaggia Torna Alla rifugia Olè Travelling Tendiamo La fine Del caricamento E vediamo Cosa succede Quando andiamo In casa Cioè qua Non ci sono Problemi di Di freddo Tra l'altro Qui è sempre Giorno Punto di Rigenerazione Quindi se si schiatta Ok Spawn Abbiamo trovato Magari Dei La batteria La possiamo Demolire Sì Qua possiamo fare Un botto Di roba Però Possiamo fare Il modulo Torcia frontale Ok Ma Non abbiamo Gli altri moduli Di potenziamento Batteria Che avevamo In altri posti Vabbè Qua ci guarderemo Ragazzi Io direi Che con Expedition Zero Finiamo qua Attendo i vostri pareri Ovviamente Non ha più senso Che guardiate La vecchia Live Che avevo fatto Perché il gioco Mi sembra comunque Migliorato E cambiato E In italiano Ci sono le Quest Diciamo Abbastanza Criptiche All'inizio Non è un open world Ovviamente Perché avete le zone In cui potete Fare il viaggio rapido C'è la storia Da seguire Però Ci ritroviamo In Siberia Alla ricerca Che è di una spedizione perduta Con elementi di sovrannaturale Insomma Lovecraftiane Almeno Credo Fatemi sapere cosa ne pensate E noi ci sentiamo Al prossimo video game play Alla prossima ragazzi E ciao ciao